Si stima che dal 2020 le malattie cardiache e l'ictus diventeranno le principali cause di morte nel mondo. Cosa si può fare nella prevenzione? Il nostro corso è un'incrase in la prevalenza di disease. Abbiamo molto bene a treating disease, non a preventare disease. Quindi, come possiamo migliorare la prevenzione? Il principale riscaldi sono i principi riscaldi che noi sappiamo la caratteristica e in realtà anche i altri non comunicabili. Abbiamo parlato di smoking, che è uno dei principi riscaldi che è ancora molto prevalento in molti paesi del mondo. Quindi, la scelta di scelta di scelta è molto importante. Abbiamo anche la scelta che ciò che in i paesi che c'è un paesi che c'è un aumento in la scelta di scelta, c'è un aumento in la mortale e la morbidità. Il altro è di controllo la hypertension. E qui abbiamo un'incrase in l'awareness di hypertension e anche identificare le patienti che bisogna essere trattati per la hypertension. Quindi, la hypertension è un'importante riscaldi che deve essere trattato e deve essere trattato. Il altro è diabeto. Diabeto, che è diventata una delle grandi pandemiche di nostro mondo, principalmente perché di un'incrase in l'obesità, un'incrase in l'obesità, e, perciò, un'incrase in l'incrase in l'occhio cardiometabolic syndrome è uno di più principali di cui abbiamo un'incrase in cardioboscal disease. Perché l'incrase in l'obesità e l'obesità, molti volte, anche, evolvei in l'hypertensione. E, con l'incrase, abbiamo un'ottima riscaldi che possono avere un'ottima riscaldi che possono avere l'incrase in cardioboscal disease. Un'ottima riscaldi sono le lipidive, la fatte in l'acqua, la so-called cholesterol, in particolare, la fatte in l'acqua. E noi sappiamo che abbiamo un modo di trattare questo, abbiamo un modo di trattare l'incrase in l'acqua in l'acqua, ma è molto importante per identificare queste persone, trattare le persone, e anche per migliorare, perché la forma che possiamo detectare e la forma che possiamo cambiare le nostri e possiamo cambiare le nostri riscaldi, può essere relato con tutti questi riscaldi che abbiamo già parlato. So, changing lifestyle, which is one of the most difficult things, people don't like to change lifestyles, è molto importante per tutti questi differenti quelli che abbiamo già parlato. So, here è un lavoro che si chiama, la comunità medica, e la comunità come un'ottima riscaldi. Quindi, è qualcosa che non solo noi, come doctors, possiamo dire, ma che ci devono essere un grande intervento dalla popolazione, dalla politica, dalla decisione, dalla decisione, per fare le decisioni che possono avere un'influenza sull'acqua in modo che possiamo cambiare tutti questi differenti riscaldi che, se possiamo trattare le riscaldi, poi possiamo migliorare, perché questo è stato mostrato, possiamo migliorare le livelli e la riscaldi di l'acqua in qualsiasi regione. in qualsiasi regione, in qualsiasi regione.